Beautiful, trame al 14 maggio, Thomas scopre è stata Shayla a far ubriacare Brooke. Ci saranno tante novità nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dall'8 al 14 maggio su canale 5. Le anticipazioni della SOV statunitense rivelano che Thomas Forrester scoprirà che Shayla Carter ha avuto un ruolo di primo piano nella rottura tra Brooke Logan e Ridge Forrester, Thorsten Kaie. Gli spoiler di Beautiful inerenti le puntate che andranno in onda dall'8 al 14 maggio evidenziano che Shayla, Kimberly Brown, e Thomas saranno protagonisti di un acceso confronto. Il giovane rimarrà spiazzato quando la donna gli dirà che ha aiutato i suoi genitori a tornare insieme. Nel frattempo, Ridge confiderà a Taylor di essere in ansia per la reazione di Brooke quando verrà a sapere del loro ritorno di fiamma. Bill, Wyatt e Liam, Scott Clifton, si ritroveranno a pranzare al giardino. Il magnate non sarà stupito di come Ridge abbia già dimenticato Brooke con Taylor. A tal proposito, il figlio informerà il padre che sua suocera è molto provata da questa situazione. Intanto Brooke informerà a Hope che forse è giunto il momento di lasciare andare Ridge. Una decisione che non troverà l'appoggio della figlia, la quale la esorterà a combattere per il suo amore. Nelle prossime puntate di Beautiful Thomas non crederà che Shayla sia coinvolta nei fatti avvenuti durante la notte di Capodanno tra Deacon e Brooke. Ridge e Taylor, a loro volta, saranno piuttosto preoccupati per il comportamento di Thomas. Quest'ultimo continuerà a fare pressioni sulla madre naturale di Finn affinché gli racconti tutta la verità sul bacio tra Deacon e Brooke. Shayla, a questo punto, dirà giovane che dovrebbe ringraziarla per avere portato Ridge tra le braccia di Taylor. Taylor continuerà a sostenere che Brooke è un alcolista e si chiederà perché non ha rispettato la sua promessa di restare lontano dalle bevande alcoliche. Grace coprirà che Zende ha rifiutato un appuntamento con Sequoia credendo che sia ancora innamorato di Paris. Quest'ultima andrà a trovare Carter nel suo appartamento dove si lasceranno andare ad un bacio appassionato. Sheila, durante un confronto con Thomas, ammetterà di aver fatto ubriacare Brooke. Il fratello di Steffi a questo punto deciderà di non mettere al corrente il padre della sua scoperta. Grace insisterà con Zende affinché resti con Paris. Quest'ultima, però, continuerà ad essere tratta da Carter. I due innamorati si metteranno d'accordo per rendere pubblica la loro relazione. Grazie. Grazie.